Siamo alla fine partita al Carmelo Saporito di San Michele di Ganseria, è appena finita la partita tra Megara e Aquila San Michelese, 0 a 0, misterico bello, un commento a questa partita, molto maschia, con qualche occasione da gol. Si sapeva, queste sono squadre di paesi che mettono l'anima, mettono la grinta, ma oggi è stata una giornata nata un pochettino storta, subito abbiamo avuto un infortunio, un riscaldamento, poi un altro infortunio subito in campo, ci siamo dovuti adattare più di una volta, ma tutto sommato le nostre occasioni le abbiamo avute, le nostre occasioni da rete le abbiamo creato a primo tempo, queste sono le classiche partite che se non li chiudi a primo tempo poi nel secondo tempo si venga la rabbia, l'ira, avete visto che cosa è successo, poi hanno creato una bolsa dove non si poteva più giocare, peccato, peccato. Peccato sì, perché era una partita sicuramente alla portata del Megara, volevo chiedere prima di salutarci della prestazione di alcuni giocatori che è apparsa molto sotto tono, al di là degli infortuni, è successo di tutto in questa partita, compreso il palo al secondo minuto di Mauro che poteva cambiare volta la partita, ma la prestazione di alcuni giocatori è sembrata veramente sotto tono. Ma sai, sicuramente non eravamo al massimo della forma, però quando salta qualche equilibrio, quando salta qualche punto di riferimento poi viene un attimino più difficile, certo si poteva dare di più, ma ripeto, se a primo minuto abbiamo preso già un palo, abbiamo fallito in altre due occasioni, come capita nel calcio poi diventa tutto più difficile. Nel momento che dovevamo chiudere e pressare l'incontro abbiamo avuto il primo di infortunio di Mangiameri, poi a seguire quello di Conti e ci siamo trovati un attimino all'arrembaggio dentro quel campo soltanto con la voglia di voler vincere, ma non c'erano più schemi, mi era soppato tutto. Qui dal Carmelo Saporito di San Michele di Ganseria e tutto il Megara pareggiato per 0-0 contro l'Aquila San Micheleese, Mister Nunzio Riccobello e Giuseppe Di Mare per Rassegna Metropolitana, buonasera a tutti. Grazie.